Sul calcolo della base unica di ripartizione bisogna dire qualcosa di più, perché questo è il motore che garantisce che i nostri articoli di vendita non siano deprezzati e quindi che il nostro sistema di vendita sia inutile. Attraverso la base unica Food Costing Cloud raggruppa in un unico contenitore e li ripartisce attraverso una formula in proporzione tra i singoli articoli in vendita. Questa funzione, quest'algoritmo, ti consente di determinare il costo pieno, il full cost, che la tua azienda genera per la produzione di quel piatto. Così puoi stabilire il reale punto di pareggio ed un prezzo di vendita di partenza sotto il quale non dovresti mai offrire i tuoi prodotti.